e chi poteva mai aspettarsela tanta fortuna figlio di un modesto usciare di provincia jean marin era venuto a studiare giurisprudenza e abitava come tanti altri nel quartiere latino nelle varie birrerie che aveva frequentato era diventato amico di alcuni studenti chiacchieroni che davanti a un boccale sentenziavano di politica diventò un loro ammiratore e li seguì con ostinazione da un locale all'altro pagando anche la loro parte quando era in soldi poi diventato avvocato perorò delle cause perdendole regolarmente lesse sul giornale una mattina che uno dei suoi vecchi compagni del quartiere era diventato deputato tornò ad essere il suo cane fedele l'amico che si sobbarca ogni incombenza ogni faccenda sgradita l'amico che si manda a chiamare quando se ne ha bisogno e con cui non si fanno tanti complimenti per una combinazione della vita parlamentare accadde che il deputato divenne ministro sei mesi dopo jean marin venne nominato consigliere di stato ebbe all'inizio un tale accesso d'orgoglio da perdere la testa andava in giro per il piacere di mettersi in mostra come se alla gente fosse sufficiente vederlo per capire chi era nei negozi in cui entrava trovava il modo di dire quei pretesti più insignificanti io che sono consigliere di stato lo faceva persino col giornaraio persino con i cocchieri di piazza poi sentì naturalmente come conseguenza della sua dignità per necessità professionale per dovere di persona potente e generosa un bisogno irresistibile di proteggere dava a tutti il suo appoggio in ogni occasione con inesauribile generosità quando sui viali incontrava un conoscente gli andava incontro sorridente gli prendeva le mani chiedeva notizia della sua salute e senza attendere richiesta diceva sapete sono consigliere di stato e a vostra completa disposizione se posso esservi d'aiuto in qualche cosa approfittate senza complimenti uno nella mia posizione abbraccia lunga entrava in un caffè con l'amico incontrato casualmente per chiedere carta penna e calamaio mi basta un foglio cameriere tanto da scrivere una lettera di raccomandazione a decina erano le lettere di raccomandazione che scriveva a ventina e persino cinquanta in un giorno ne scriveva al caffè americano da Bignon, da Tortoni alla Maison Doré al caffè Riche alla Helder al caffè inglese al caffè napoletano dovunque, dovunque ne scriveva a tutti i funzionari della Repubblica dai giudici conciliatori ai ministri ed era felice assolutamente felice una mattina mentre era in procinto ad uscire di casa per andare al Consiglio di Stato cominciò a piovere rimase incerto se dovesse prendere una carrozza o no poi si avviò a piedi l'acquazzone si fece furioso sommergeva i marzapiedi non dava il selciato il signor Maren fu obbligato a rifugiarsi in un portone c'era già un prete un prete anziano con i capelli bianchi prima di diventare consigliere di Stato il signor Maren non simpatizzava molto col clero ma adesso lo trattava con riguardo da quando un cardinale l'aveva consultato per cortesia su una questione complicata la pioggia accadeva a rovesci i due furono costretti a ritirarsi sino alla guardiola della portineria per evitare gli schizzi il signor Maren che aveva sempre una gran voglia di parlare per far capire chi era dichiarò che tempaccio reverendo il vecchio sacerdote inclinò il tempo oh certo signore è spiacevole particolarmente per chi passa a Parigi soltanto pochi giorni ah voi siete della provincia sì signore sono qui di passaggio è seccante davvero passare pochi giorni qui nei giorni di mal tempo noi funzionari che viviamo a Parigi tutto l'anno non ci facciamo neanche caso il prete non dispose stava guardando la strada dove sembrava che la pioggia torrenziale fosse diminuita di intensità all'improvviso prese una decisione e si rialzò la tonaca proprio come fanno le signore con le gonne per scavalcare le pozzanghere vedendo che stava andando via Maren esclamò reverendo vi bagnate tutto? aspettate un momento tra poco spioverà il vecchio si fermò indeciso e disse ho molta fretta un appuntamento urgente il signor Maren pareva dispiaciuto vi zupperete tutto? posso domandarvi dove siete diretto? il sacerdote sembrò esitare poi disse vado verso il palazzo reale allora se voi permettete reverendo vi offro il riparo del mio ombrello io vado al consiglio di stato eh sì perché sono consigliere di stato il prete alzò il naso guardò al vicino poi disse vi ringrazio molto signore accetto con piacere il signor Maren lo prese sotto braccio e lo guidò gli faceva da guardia del corpo lo consigliava attento alla pozzanghera reverendo fate attenzione soprattutto alle ruote delle carrozze a volte ci inzaccherano dalla testa ai piedi e attento agli ombrelli dei passanti le stecche di balena sono quanto c'è di più pericoloso per gli occhi le donne poi sono proprio terribili non si preoccupano di niente le ficcano in faccia alla gente le punte dei parapioggia o dei parasole mai che si facciano da parte per nessuno si sentono le padrone del marciapiede come se la città fosse loro io credo che abbiano avuto un'educazione molto sommaria Maren si mise a ridere il sacerdote non rispondeva camminava leggermente ricurvo scegliendo con cura il punto in cui poggiare il piede in modo da evitare di infangarsi le scarpe o la tonaca il signor Maren continuò siete venuto a Parigi per prendervi una breve vacanza il vecchio rispose no per un affare ah sì una cosa importante posso chiedervi di che si tratta se posso esservi utile sono a vostra disposizione il prete sembrava impacciato disse a bassa voce no si tratta di un affaruccio personale una lieve difficoltà con col mio vescovo non è cosa che possa interessarvi è una faccenda come dire interna di materia ecclesiastica premuroso il signor Maren affermò ma c'è il consiglio di stato che regolamenta questi casi disponete di me e infatti sto andando proprio al consiglio di stato siete troppo buono devo incontrare il signor Lepere il signor Savon e forse anche il signor Petipà il signor Maren si fermò di colpo ma reverendo sono amici miei tra i miei amici migliori ottimi colleghi persone gentilissime vi farò una calorosa raccomandazione per tutti e tre su me potete contare il prete ringraziò profondendosi in scuse facendo tanti ringraziamenti a bassa voce il signor Maren era raggiante potete ben dire di aver avuto fortuna reverendo vedrete vedrete che per merito mio la vostra fazenda si risolverà in una bolla di sapone erano arrivati al consiglio di stato il signor Maren fece accomodare il sacerdote nel suo ufficio in una poltrona davanti al caminetto poi si sedette alla scrivania e prese la penna mio caro collega permettetemi di raccomandarvi caldamente un venerabile sacerdote persona quanto mai degna e meritevole Don si interruppe e chiese come vi chiamate per favore Don Centur Maren continuò a scrivere Don Centur il quale ha bisogno del vostro intervento per risolvere una piccola questione di cui vi parlerà personalmente sono felice che questa occasione mi abbia consentito caro collega e finì con i rituali complimenti scritte le tre lettere le consegnò al suo protetto e andò via profondendosi in ringraziamenti il signor Maren sbrigò il lavoro fece ritorno a casa passò tranquillamente la giornata dormì come un angelo si svegliò di buon umore e si fece portare i giornali aprì per primo il giornale radicale vi lesse il nostro clero e i nostri funzionari le losche imprese dei preti si succedono ininterrottamente un sacerdote e un certo Centur già riconosciuto colpevole di cospirazione contro il nostro governo attuale sospettato di indegnità che non menzioniamo neppure probabilmente un ex gesuita poi trasformatosi in prete secolare era stato sospeso dal suo vescovo per motivi inconfessabili e convocato a Parigi allo scopo di fornire spiegazioni sulle proprie azioni ebbene costui ha trovato un ardente difensore nel consigliere di stato Maren il quale non ha esitato a fornire a questo delinquente in tonaca pressanti raccomandazioni presso tutti i consiglieri repubblicani suoi colleghi segnaliamo all'attenzione del ministro competente l'inqualificabile comportamento di questo consigliere di stato il signor Maren salsò di scatto si vestì si precipitò dal suo collega Petipà che gli disse siete pazzo a raccomandarmi quel vecchio cospilatore il signor Maren sgomento balbettò ma no statemi a sentire mi ha torlupinato sembrava così per bene mi ha imbrogliato mi ha vergognosamente imbrogliato vi prego fatelo condannare severamente molto severamente voglio scrivere ditemi a che debbo scrivere per farlo condannare andrò dal procuratore generale dall'arcivescovo di Parigi si proprio dall'arcivescovo l'impeto si sedette sulla scrivania di Petipà e scrisse Monsignore ho l'onore di portare conoscenza dell'eminenza vostra che sono stato vittima degli intrighi e delle menzogne di un tale Don Centur che ha ingannato la mia buona fede raggirato dalle dichiarazioni di questo sacerdote ho creduto opportuno eccetera eccetera quando ebbe firmato e suggellato la lettera si voltò verso il collega ed esclamò caro amico vi serve di lezione mai raccomandare qualcuno che ha ingannato che ha ingannato che ha ingannato Grazie.